50 sinistra 5 e meno 50 sinistra 5 e meno adesso sinistra 4 5 4 3 2 1 andiamo 50 sinistra 5 e meno in destra sinistra 4 e accenno sinistro 40 destra 5 più lunga lunga e sinistra 6 vai 40 in destra 4 più e sinistra 6 lascia e accenno sinistro in destra 4 taglia 50 vista al paletto sinistra 5 più taglia 30 allo spiazzo destra 3 più e sinistra 5 lunga lunga e al paletto sinistra destra sinistra 4 e accenno destro per sinistra 5 meno e destra 5 30 e sinistra 5 meno lunga lunga e destra 4 più accenno sinistro e subito destra 4 per sinistra 5 chiude al paletto e destra 4 più 50 e sinistra 5 più e sinistra 4 più destra 5 taglia 30 sinistra 5 e destra 4 più e sinistra 4 più 100 vista accenno sinistro lascia 30 e sinistra 5 meno e destra 5 lascia 30 in ritardo a poco destra 2 per sinistra 5 più lascia e sinistra 5 meno 40 destra 5 tieni in sinistra 4 più e accenno destro vai 40 in area sinistra 4 per destra 6 meno lascia e destra 5 meno in ritardo a sinistra 5 chiude 3 e destra 3 chiude e sinistra 3 tonda lascia e subito a sinistra 4 più in destra 3 e sinistra 4 più per destra 4 30 in attenzione inversione sinistra meno 3 30 destra 5 e destra 5 tieni e subito a sinistra 2 più per destra 3 tieni e sinistra 3 30 destra 4 e accenno sinistro in destra 4 più 30 e destra 4 più e accenno destro tieni e subito a sinistra 2 per destra 5 e accenno destro vai 40 destra 5 30 in sinistra 4 più taglia e accenno destro 80 vista in destra 3 più 3 più 40 in tornante sinistro accenno destro in tornante destro 30 accenno accenno sinistro lascia in sinistra 2 più e accenno destro 2 tempi in sinistra 3 più tieni e subito a destra 2 più lunga e sinistra 2 più apre accenno sinistro e destra 5 più e accenno sinistro e destra 5 e subito a sinistra 5 meno e accenno destro tieni e subito a sinistra 5 e sinistra 4 più tieni per destra 4 taglia e accenno sinistro tieni per destra 4 taglia e subito a sinistra 4 meno taglia tieni e subito a destra 4 taglia subito a sinistra 4 più, destra 5, lascia subito ritardo, destra 4 più, taglia per accendo sinistro e accendo destro, 40, sinistra 4 più, 4 più e accendo destro, sinistra destra 3 più, in sinistra 2, tieni e subito a destra 2, meno tonda, per sinistra 4, lunga lunga, apre e accendo sinistro e accendo destro, 30, destra 4 più, destra 4 più e sinistra 5 meno, 30 e ritardo destra 2, 5 e 26, bene, bello bello, mi sono divertito